Quale può essere l'impatto dei social media nel mondo del lavoro e soprattutto nella relazione tra l'azienda e il lavoratore? L'impatto dei social media è sicuramente un impatto importante, come in generale nella società, anche nel mondo del lavoro, quindi sul posto di lavoro i social media hanno avuto un effetto notevole e sicuramente quello che si auspica è che anche il legislatore in Italia possa prendere in considerazione. Teniamo conto che la disciplina ad oggi vigente dal punto di vista prevalentemente del diritto del lavoro, perché mi occupo del diritto del lavoro, è dettata dallo Statuto dei lavoratori, quindi risale al 1970, anni in cui addirittura non c'era una minima idea di cosa fosse i social media, che sappiamo che Facebook è stato inventato nel 2003. Per cui la disciplina a cui rientrano è quella del controllo a distanza, che all'epoca era immaginata soltanto con le telecamere di videosorveglianza. Sicuramente il social media ha un effetto del tutto diverso e che meriterebbe un approccio diverso, in modo tale da consentire da una parte ai lavoratori la possibilità di utilizzarli, ma allo stesso tempo consentire al datore di lavoro di potersi tutelare nel momento in cui ci fosse un uso inappropriato ai danni della stessa azienda. Facebook è uno strumento importante, ma è importante anche dal punto di vista del recruitment per l'azienda. Quali sono le implicazioni e come si può tutelare poi il lavoratore? Sicuramente l'importanza dei social media si ha non soltanto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, ma anche, ahimè, nella parte finale, nel caso in cui ci fosse la necessità di interrompere un rapporto di lavoro per una mancanza, ma anche e soprattutto nella parte precedente alla nascita del rapporto di lavoro. Sappiamo infatti che le agenzie e le società di recruitment lavorano oggi come oggi, ma anche le HR delle varie società lavorano appunto tenendo conto e considerando le pagine Facebook, i profili LinkedIn di ogni lavoratore. Quindi sicuramente questo, laddove si tratta di pagine, comunque di profili che sono accessibili a tutti, non ha un impatto dal punto di vista privacy. Però nel momento in cui ci fossero dei dati, degli elementi che comunque non sono pubblici, in questo caso, nel caso in cui venissero esaminati dall'operatore in questione della società, potrebbe appunto comportare delle violazioni. Facciamo un passo indietro. Qual è la policy che vige in Italia su questo argomento? Beh, allora, come policy si parla di policy aziendale. In realtà ogni azienda, a secondo, diciamo, delle varie dimensioni, dei vari profili internazionali, o meno, si dota di una diversa policy che va, in generale, parte dall'utilizzo di internet e email e quindi implica anche una disciplina per quanto riguarda l'utilizzo dei social media. Le policy possono avere un impatto diverso, possono essere assolutamente rigorose e impedire l'utilizzo dei social media durante l'orario di lavoro, oppure possono consentirlo e disciplinarlo in qualche modo. Il nostro suggerimento è comunque quello di adottare la seconda ipotesi, perché nel primo caso, ovviamente, sappiamo benissimo che anche se si vietasse al lavoratore di utilizzare Facebook o LinkedIn o qualunque altro social media su computer aziendale, potrebbe comunque farlo attraverso un mezzo proprio, un iPhone o qualcosa del genere. Sempre più spesso sentiamo l'adozione di sanzioni nei confronti dei lavoratori dovute all'uso dei social network. Ci può fare l'esempio di qualche caso in Italia o qualche caso internazionale? In effetti la giurisprudenza si sta interessando sempre di più, ahimè, in casi di licenziamenti. Sono molti le ipotesi in cui, per esempio, lavoratori che erano in malattia hanno postato delle foto su Facebook in cui erano in vacanza o a delle feste, oppure lavoratori che hanno messo sul profilo Facebook delle foto sul posto di lavoro che però magari alle spalle avevano dei disegni aziendali che comportavano appunto dei segreti dal punto di vista aziendale, quindi delle violazioni molto gravi ai danni dell'azienda. Casi ancora più gravi sono quando addirittura ci sono dei commenti per lo più negativi, perché sappiamo che l'effetto di Facebook è quello che una persona nel momento in cui scrive su Facebook o comunque su social media pensa di parlare ad un amico, invece in realtà la risonanza ovviamente è molto più ampia. Quindi si può postare un commento ai danni di un collega, di un superiore e questo ovviamente comporta dei disagi e spesso anche delle sanzioni nei confronti dei dipendenti stessi. Bene, grazie ad Andrea Cangemi dello Stato.